Architrave della coalizione progressista, il Partito Democratico ha presentato oggi la lista dei propri candidati al Consiglio Comunale del Capoluogo. E' stato proprio il PD a premere l'acceleratore a febbraio, quando invertendo la tendenza a procrastinare che tanto danno ha fatto alle scorse regionali, ha invece dato una spinta vigorosa verso la scelta del candidato sindaco di Campobasso, anzi della candidata sindaca Maria Luisa Forte. A ricordarlo è il fresco segretario del PD Ovidio Bontempo che annuncia l'arrivo a Campobasso sabato prossimo alle 20 della segretaria nazionale Ellie Schlein. Questo è stato frutto di un lavoro straordinario che già da diversi mesi ha trovato il punto di equilibrio nella figura di Maria Luisa Forte, già da febbraio ed è un elemento inedito importante, siamo riusciti a trovare una convergenza insieme al Movimento 5 Stelle e alle altre forze progressiste su questa figura che secondo noi rappresenta la proposta giusta in termini di qualità e di rappresentanza per il centrosinistra e per la città di Campobasso. La lista è di grande qualità, è una lista forte che rappresenta anche l'unità di tutto il Partito Democratico. Questa lista troverà l'apoteosi, il momento più bello, ecco se vogliamo, sabato prossimo con l'arrivo della nostra segretaria nazionale Ellie Schlein qui a Campobasso. Maria Luisa Forte parla con soddisfazione e fiducia della campagna elettorale in corso e della buona risposta dei cittadini, grandi aspettative per l'apporto del PD. La campagna elettorale sta andando molto bene, il clima che si respira è un clima positivo e di entusiasmo, tante sono le persone che mi fermano e che sostengono la mia candidatura. La mia è naturalmente quella delle liste della coalizione e questo mi fa enormemente piacere perché siamo sicuri che amministreremo per i prossimi cinque anni questa città e la coalizione è fatta tutta di persone competenti, in particolare parliamo della lista del PD che ha svolto un ruolo importante e ha dato anche un contributo sostanziale al programma perché l'intesa che c'è non è tanto sulla mia persona ma sul programma.